Oggi ragazzi Q&A, vado a rispondere a tutte le domande che mi avete fatto sotto l'ultimo video e a un paio di domande che mi avete fatto su Instagram che ritengo abbastanza interessanti Allora iniziamo con quelle fatte sotto l'ultimo video e poi andiamo a vedere quelle su Instagram Lorenzo chiede come faccio per ottenere competenze aggiuntive oltre alla laurea che sto prendendo? Mi puoi fare degli esempi? Secondo me ci sono due modi per acquisire nuove competenze Il primo è quello proprio distaccato dal mondo fare esperienze ossia quello di comprare un determinato corso, seguirlo e imparare quello che c'è dentro Ad esempio voglio imparare a utilizzare Photoshop, compro un corso dove mi insegna a utilizzare Photoshop lo seguo, imparo, inizio un po' a scancherare su Photoshop e a quel punto ho una competenza Il secondo modo che è quello che mi piace di più, sempre ricollegandoci all'esempio di Photoshop Se inizia a fare YouTube ad esempio impari a montare video e allo stesso tempo impari a fare le copertine quindi impari a usare Photoshop Quindi il fare un lavoretto che sia uno stage, che sia magari stage o stage non lo so che magari venite qui sotto nei commenti a dirmi ah no si dice così, no si dice così Comunque lo stage, chiamatelo come vi pare, vi insegna comunque delle competenze Se fate dei video su YouTube imparate nuove competenze Se fate un business che sia dropshipping, che sia fare trading, che sia questo, che sia quell'altro Qualunque cosa voi facciate durante la vostra vita imparate qualcosa Quindi il trucco è fare, fare, rifare, rifare, rifare Alessio chiede cosa farei dopo la triennale? Hai già un progetto? Allora sicuramente non farò la magistrale e sì ho un progetto e il progetto si chiama Royas Non sto qua a spiegarvi l'idea perché è un progetto gigantesco è un piano a lungo termine e quindi non basterebbero pochi secondi per spiegarvi quello che ho in testa però come vi dicevo in passato ci farò un video dove andrò magari a spiegare tutto nello specifico Beppe chiede cosa ne pensi di queste continue crisi? Allora partiamo dal presupposto che secondo me e ripeto secondo me siamo solo all'inizio di una gigantesca crisi perché quello che sta succedendo adesso è che si stanno alzando i costi delle materie prime di conseguenza l'imprenditore per poter mantenere lo stesso profitto cosa fa? Alza i prezzi Se l'imprenditore alza i prezzi ne consegue che il potere d'acquisto dell'operaio, del dipendente è sempre lo stesso perché guadagna uguale e i prezzi sono più alti Negli ultimi giorni si sta parlando di alzare la paga minima oraria tipo a 8, 9, 10 euro quel che è perché poco importa Alzando la paga minima cosa fa l'imprenditore? Dovendo pagare di più gli operai o comunque i dipendenti cosa deve fare per poter mantenere lo stesso profitto? Alzerà ancora di più i prezzi perché se lui paga di più i dipendenti, se prima li pagava 10.000 e adesso li deve pagare 20.000 totali cosa succede? Deve per forza aumentare i prezzi altrimenti il suo margine si abbassa aumentando i prezzi e aumentando i salari cosa succede? Che il vostro potere d'acquisto, il mio potere d'acquisto sarà sempre lo stesso se non più basso con un'unica differenza che faremo parte di scaglioni a livello di ISE molto più alti e di conseguenza pagheremo delle tasse più alte quando in realtà il nostro potere d'acquisto non è aumentato Sembra che sia aumentato perché guadagni di più ma in realtà il tuo potere d'acquisto è diminuito molto probabilmente e di conseguenza tu stai pagando più tasse però in realtà non stai guadagnando di più e quindi sinceramente non vedo una soluzione almeno io non la vedo una soluzione però anche da quel che mi sembra di sentire in giro comunque al TG parlamentari che parlano eccetera eccetera non vedo una soluzione in vista nei prossimi anni e quindi la vedo davvero davvero grigia e secondo me è le greve, molto grave la situazione quindi il prossimo anno, due, tre secondo me saranno pieni zeppi di miseria sarà una bella crisi Don chiede in passato hai avuto influenze negative? Allora in realtà sì perché anche quando sono stato bocciato la mia cerchia di amici era gente che non andava molto bene a scuola quindi quando chi ti sta intorno non va bene a scuola anche tu sei incentivato a non andare bene perché magari loro non studiano magari loro fanno cabò e magari tu cabò o fuga dipende da dove abitate comunque in ogni caso quando magari ti senti con loro su whatsapp hai fatto i compiti? No Hai studiato? No X? No Tutto no 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 di conseguenza ti viene automatico anche te non fare quelle cose là di conseguenza alla fine sono stato bocciato d'altra parte io sono sempre stato uno che sta con te sì ma quando vedi il rischio quando vedi il problema eccetera si allontana nel senso ok sono con te ok mi influenzi ma fino a un certo punto nel senso a un certo punto inizio a usare il mio cervello quindi anche se ho passato anni con amici che si drogavano che fumavano eccetera eccetera non ho mai avuto nessun tipo di vizio e questo in realtà è un mio pregio però allo stesso tempo sono stato con gente tra virgolette inutile in momenti inutili della vita e quindi boh secondo me è stata una perdita di tempo più che altro queste sono le mie cattive influenze diciamo che non sono mai stato portato al limite da nessuno perché nel 99% dei casi riesco comunque a essere abbastanza sveglio da accorgermi quando le cose non stanno andando nel verso giusto insomma allora Nicola con una domanda lunghissima chiede una laurea in economia aziendale sarebbe vantaggiosa ma in generale ho un problema con matematica e di conseguenza guardo con differenza le scienze economiche domanda le persone che come me sanno di essere dotate per le discipline umanistiche volendo assecondare il mercato del lavoro dovrebbero accantonare le loro passioni o in alternativa coltivarle all'università nonostante la consapevolezza della loro probabile futura precarietà quali le due opzioni secondo te sarebbe strategicamente più corretta? grazie in anticipo per la risposta e complimenti per il canale intanto grazie Nicola allora ti dico se devi scegliere una determinata facoltà solo perché sei sicuro poi di trovare un posto di lavoro non ha senso all'università studiare fa schifo di conseguenza se devi studiare una cosa che ti piace ok puoi anche fare questo sforzo ma se devi studiare una cosa che ti fa proprio schifo quindi una cosa che studi solo per poter lavorare in futuro non ha senso quindi se una facoltà umanistica ti interessa 10 e una facoltà magari di economia ti interessa 8, 7 a quel punto ci sta a pensare di fare economia ma se una facoltà umanistica ti interessa 10 e tutte le altre facoltà ti interessano 0 fai una facoltà umanistica perché studiare una cosa che non ti piace vuole dire studiare 3 o 5 anni quella cosa lì che ti fa schifo e poi una volta laureato devi andare a fare quel lavoro là che se già a studiarlo ti faceva schifo anche a farlo ti fa schifo perché è lo stesso concetto in realtà dovresti applicare quello che hai studiato se tu vuoi fare l'archeologo la guida turistica il prof di italiano è inutile che vai a studiare contabilità perché ti fa schifo e dovrai farla per i prossimi 40 anni quindi farei una vita che fa schifo Samuel chiede secondo te non è meglio fare impresa senza per forza avere una laurea? cioè come dice Briatore in un famoso video dove dice questo tutti sognano sui social media di diventare milionari allora dico se tu non hai passioni a 18 anni vieni a lavorare ma mi sembra una roba talmente logica ma lui cosa ti ha detto? sono andato a ripescarmi il video e diciamo che sono abbastanza d'accordo nel senso la maggior parte degli studenti che fanno solo ed esclusivamente l'università arrivando a 26 anni senza aver mai lavorato alla fine si ritrovano disoccupati perché sì hanno un foglio di carta punto e questo concetto mi sembra che su questo canale sia stato sviscerato in tutti i modi possibili quindi sì il concetto che dice alla fine è giusto nel senso nel 2022 la maggior parte di lavori si possono fare anche senza laurea tolti quei pochi lavori come il dottore il chirurgo l'avvocato eccetera eccetera dove la laurea è necessaria se vuoi fare l'imprenditore non è necessario che vai all'università puoi tranquillamente iniziare anche a lavorare come operaio e il sabato e la domenica inizi a progettare le tue idee per poi applicarle un pregio però che posso attribuire all'università è che ti tiene sul pezzo nel senso tiene la tua mente allenata a studiare e allo stesso tempo ti garantisce abbastanza tempo perché ti dà abbastanza tempo per poter fare anche altro se inizi subito a lavorare magari hai meno tempo diciamo che si può spezzare una lancia a favore dell'università perché comunque ti metti in un ambiente dove è più facile magari mettersi in collegamento con futuri soci persone comunque del settore che hanno i tuoi stessi interessi con i quali magari riesci a fare qualcosa riesci a creare qualcosa ultima domanda tra quelle di youtube Giulio chiede dove pensi di arrivare con youtube? in realtà ad essere sincero molto in alto perché mi sto accorgendo come si sta formando una community di gente con la testa di gente intelligente di gente che probabilmente fa l'università di gente con un obiettivo in testa con delle ambizioni e quindi 2000 persone 3000 10.000 fatte in questo modo non sono 100.000 create giocando ai videogiochi oppure facendo dei balletti su tiktok sono persone serie poi sinceramente guardando i miei contenuti vedo che c'è da migliorare perché posso alzare ancora di più la qualità posso essere ancora una persona più capace davanti alla telecamera non so se si può dire in questo modo allo stesso tempo però mi accorgo anche che ci sono dei contenuti dentro se c'è del valore un mio video difficilmente lo guardi lo finisci e dici ok non mi è servito a nulla è molto difficile a meno che tu non sia davvero a un certo livello ma proprio a un certo livello dopo che finisci un mio video ti rimane qualcosa che sia motivazione che sia ispirazione che sia informazione qualunque cosa però ti rimane qualcosa e quindi questo mi fa dire che qualità ripaga e i contenuti per adesso ci sono sto cercando di aumentare anche la qualità quindi penso che nei prossimi anni con youtube si arriverà molto in alto con questo canale invece adesso rispondiamo a qualche domanda che arriva da instagram partiamo subito con la prima domanda hai fatto conoscenze facilmente all'università? allora diciamo che io non posso dare una vera e propria risposta perché io avrò frequentato 10-15 lezioni in presenza e si si riesce a fare molto velocemente amicizie perché più che altro i primi giorni nessuno conosce nessuno o comunque i gruppi sono ancora abbastanza piccoli quindi si si tende a socializzare allo stesso tempo a me non interessava più di tanto quindi diciamo che non sono andato là con l'idea adesso conosco nuova gente allora passiamo alla prossima obiettivi futuri esempio aspirazioni investimenti eccetera allora è difficile darvi un obiettivo in particolare però se ve ne devo dare proprio uno diciamo che una mia aspirazione sarebbe quella di arrivare a un certo punto nella vita dove non me ne frega niente dove sono totalmente isolato totalmente indipendente da quello che succede nel mondo ossia io ho la mia vita ho le mie entrate ho la mia diciamo bolla dove io vivo e non me ne frega niente di quello che succede nel mondo perché sinceramente a me dei problemi delle crisi questo ha ucciso questo questo ha picchiato questo non me ne frega una mazza io vorrei essere proprio isolato da tutti sti casini tutti sti problemi il telegiornale questo non mi piace quel mondo so che è un obiettivo abbastanza particolare forse anche irraggiungibile perché essere totalmente isolati dal mondo è abbastanza complicato però se proprio ve ne devo dire uno ve ne dico uno che si trova abbastanza in alto per quanto riguarda invece gli investimenti sì probabilmente in futuro allora passiamo alla prossima che in realtà sono due ma hanno lo stesso concetto di fondo capire cosa fare nella vita e come hai trovato i tuoi obiettivi nella vita più o meno è la stessa domanda perché giustamente in base ai tuoi obiettivi inizi a fare delle cose che ti portano a quegli obiettivi sì però come fare a capire quali sono i miei obiettivi cosa voglio fare nella vita allora anche qui il trucco è fare fare esperienze leggere libri informarsi conoscere gente vedere film fare fare e rifare ad esempio inizi un nuovo lavoro o ti piace o non ti piace se non ti piace così tanto provano un altro ti piace non ti piace leggi un determinato libro su un determinato argomento ti piace sì non ti piace scartiamo avanti il prossimo in questo modo esperienza dopo esperienza iniziate a conoscere meglio voi stessi a capire cosa vi piace cosa fa per voi e cosa non fa per voi però vorrei fare una precisazione difficilmente ci sarà un lavoro che vi piacerà al 100% in ogni lavoro molto probabilmente ci sono dei lati positivi e dei lati negativi l'importante è che nel complesso il lavoro vi piaccia vi faccio anche un esempio molto basilare il calciatore il calciatore nel 99% dei casi gli piace quello che fa gli piace giocare a calcio però allo stesso tempo a fare il calciatore magari ci sono dei lati negativi non so devi stare a dieta se al giocatore non piace stare a dieta però per fare il calciatore ha capito che deve stare a dieta sta la dieta gli piace il 99% del fatto di essere un calciatore ma all'1% magari la dieta non gli sta molto a cuore ecco poi come ultima domanda ho lasciato quella più difficile ossia come stai? allora fisicamente molto bene mentalmente ho degli alti e dei bassi però diciamo che non mi lamento perché quando ci sono quegli alti sei tutto carico motivato eccetera quando ci sono i bassi devi essere disciplinato devi avere già in mente cosa devi fare poi continui a farlo vai 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 è tutto un continuo andare l'importante è non fermarsi detto ciao ragazzi questo video è giunto al termine se avete qualche altra domanda scrivetemela qua sotto nei commenti se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel mi piace iscrivetevi al canale e ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao